Bella ragazzi, qua Alex, oggi qua è un nuovo video nuovo video perchè mi appena è arrivata una posta da un utente di facebook che mi deve spedire una base Elemental Dragon ora cerco di aprirla queste sono le carte, la busta è andata posto da Alessandro di facebook apriamo e vediamo che ci spedisce facciamo un mucchi della volta perchè ci sono tanti spedisce tre redox e due reactant tre redox e due reactant sono tutti i mucchi di così tre tidal e due stream tre tempest e due lightning e poi ah ok c'è tutto dovrebbero essere qua che non mi ha mandato tre blaster perchè servivano a lui e mi manda solo i due piccolini ovvero i due burner poi mi manda una flower garden facciamo prima queste poi queste electro deck che mi manda ok quindi queste sono le carte mostro poi ci mando un'abilità risolutiva a ultimate non pensavo se ultimate se fosse ultra veramente bellissima poi sempre ultimate ci manda un calice veramente bello anche questo facciamo via poi ci manda ok la spada delle sette stelle super super e poi ci manda il trapper delle fregio minutissime mamma mia come hai fatto ad avere le cose minuti madonna sono veramente mintissime oddio sembrano che nessuno le abbia mai utilizzate ragazzi veramente mintissime non le avevo mai viste tra ere giù così niente poi sun electric ci manda iniziamo dalle cose un po' meno importanti uno sporccino cremesi di near mint agli angoli vabbè passabile tanto ne ho uno mint lo sostituisco con quello quindi questa è una delle poche cose che posso dare della posta poi ci manda un mermela bisgaios ultimate un po' near mint al lato ma vabbè passabilissima poi ci manda un drago gaia super mintissimo ah ops mi sa che non vi ho fatto vabbè così veramente mintissimo mintissimo ok basta copi 3 basta lo stai copiando di nuovo e oddio che un grande occhio smintissimo ma me l'aveva detto proprio distrutto Beh ma è giocabilissimo Perché si vede tutto Tanto non è che me l'abbia valutato tantissimo Per essere un billionaire Anzi me l'ha valutato tantissimo Per essere un billionaire Grobes auge Allora Penso sia tedesco Ma non ne sono sicuro Non lo so Farò delle ricerche Poi ve lo saprò dire Ok E infine ci manda un brago sac Il mio secondo Ne cerco uno Così poi ho finito Insieme a tre blaster Cerco un sac e tre blaster Quindi le cose della posta che posso dare Beh per adesso Questo lo posso dare No questo è niente Di questo è niente L'unica cosa che posso dare è un calice ultimate Posso dare tranquillamente Non valuto tantissimo Se lo volete fate offerte Cerco tre blaster e un drago sac per completare la base E quindi i bocci si sente ebola Non è niente Non è niente